Impossibile che si sia allontanata da sola, viveva per nostra figlia. Massimiliano, l'ex marito di Mara Favro, parla così della scomparsa di Mara, avvenuta nella notte tra il 7 e l'8 marzo in via Val di Susa, Torino. Inizialmente si ipotizzava un allontanamento volontario, ma ci sono troppi elementi discordanti e molte persone si sono contraddette. Ora la procura sta indagando per omicidio anche se il corpo di Mara e il suo cellulare non sono stati ritrovati. Il telefono di Mara potrebbe nascondere la verità. Quella notte, infatti, Mara ha inviato vari messaggi a un amico e ha scattato un inquietante selfie al buio, inviato a un amico e alla figlia di 9 anni. È lei che lo ha mandato? Oppure qualcuno ha preso il suo cellulare per depistare le indagini? Nel selfie, il volto di Mara è appena visibile. Perché avrebbe scattato una foto al buio prima di scomparire? La foto era sul telefono e qualcuno l'ha inviata facendo credere che fosse stata scattata in tempo reale? Questa è una delle ipotesi. Secondo quanto dichiarato da Vincenzo Milione, il proprietario della pizzeria di Chiomonte dove Mara lavorava, quella sera la donna, dopo il lavoro, avrebbe accettato un passaggio in auto dal pizzaiolo, che l'avrebbe portata a Susa e lasciata davanti a un pub. Poco prima delle tre di notte, però, Mara sarebbe tornata indietro grazie al passaggio di un camionista, perché aveva dimenticato le chiavi di casa e un pacchetto di sigarette. Successivamente, si sarebbe diretta a piedi e al buio lungo la statale 24 verso Susa. Questa è la versione del titolare della pizzeria. Non potevo accompagnarla, visto che non posso uscire dopo la mezzanotte. L'uomo è in libertà vigilata, dopo una condanna, ma questa versione è stata smentita dal pizzaiolo del locale. Non ho accompagnato nessuno, lei mi ha dato uno strappo fino al tornante stradale di Susa, era venuta a lavoro in auto. Qual è la verità? Il gestore della pizzeria Don Ciccio, Vincenzo, è oggetto di voci in città a causa dei suoi precedenti e delle esperienze lavorative poco positive di alcune collaboratrici della pizzeria legate a problemi di pagamento e organizzazione degli orari. In passato, la pizzeria Don Ciccio aveva sede ad Asti, ma fu chiusa a seguito di un incidente controverso. Ad Asti, l'uomo, era noto per una condanna legata al traffico di droga, alla riduzione in schiavitù e allo sfruttamento della prostituzione. A proposito di Asti, c'è stata una segnalazione, l'unico presunto avvistamento di Mara. Durante una puntata di Chi l'ha visto, Milione ha mostrato la chat con un cliente della pizzeria che sosteneva di aver visto Mara all'autogrill di Crocetta ai confini con l'Astigiano insieme a un camionista qualche giorno dopo la scomparsa. Le scorse settimane sono circolate anche delle foto di Mara, che risultava iscritta su alcuni siti per adulti. In Val di Susa si sostiene che Milione abbia fatto circolare queste foto. Per quale motivo? Forse per dipingere Mara in modo negativo? Anche il suo ultimo messaggio è avvolto dal mistero. Alle 6.20 del mattino è stato inviato un messaggio da parte di Mara al suo amico con cui doveva incontrarsi per colazione. «Voglio andare via dalla pizzeria, mi trattano come una pezza da piedi». È stata davvero lei a scriverlo? L'avvistamento con il camionista, il presunto recupero delle chiavi di casa da un camion alle tre di notte e le foto tratte dai siti di escort. Tutto questo è un tentativo per screditarla o per distogliere l'attenzione dalle indagini sull'omicidio.